Ciao amici, benvenuti a questo primo video di Mago Omar, Mago d'Oriente. Io sono amico, anche pensate, del genio della Lambada di Aladino. E' per questo che faccio magia. E per aiutarmi, ho la mia assistente, Maghitta Jasmine. Lui capite come la punze, ma sempre Jasmine, perché viene dall'antico Egitto, o comunque dall'Oriente, o comunque dall'Arabia. Per prima cosa prendiamo una sega. Dobbiamo fare grande numero di palloncino, gonfiare palloncino con la bocca, senza aiuto della bombetta, con sola forza dei polmoni. Una cosa che solo grandi macchine antico Oriente sanno fare. Che cosa stai facendo? Maghitta Jasmine, vieni da questa parte tu. La sedia non serve a niente, domanda intelligente, era per mettere alla prova l'intelligenza dell'assistente. Ma visto che sei piccolo, facciamo un'utilità e tu sale sulla sedia, saliti qua, metti qua, ti guarda come è. Sei pronta? Adesso guarda, tu devi dire a tutti che non c'è il trucco non c'è inganno eh. Che vero questa cosa che io faccio eh. Pronti? Non c'è una domanda prima. Ma cosa succede? Ma io non sto a voi sbagliare. No, un piatto palloncino. Adesso faccio un'altra con un piatto, un piatto grande. Assistente, metto il tuo quadri che non lasciare. Non funziona. Adesso gonfiare. Assistente, ma che cosa succede? Non funziona palloncino? È rotto, bucato. Provate a gonfiare. Adesso non fregare palloncino. Vieni stretto, stretto. Stretto e non lasciare le mani eh. Proccio, proccio. Proccio. Vabbè, compio palloncino e facciamo la prossima volta. Adesso, visto che io sono un mago potente dell'antico città, faccio sbarish palloncino. Sbarish palloncino. Palloncino non c'è più e ci vuoi seguire tu al prossimo video da Magro Amat e Maghetta Jasmi. Ciao amici, ci vediamo presto. Sbarish pò. Sbarish pò. Sbarish pò. Grazie a tutti.